Pittella si candida. Si tratta di Gianni ovviamente il Lucano, capogruppo dei socialisti e democratici, fratello di Marcello, presidente della regione basilicata e che comunque già nei mesi scorsi aveva anticipato a Matera l'intenzione di ricandidarsi alla regione basilicata alle prossime amministrative. Gianni Pittella invece si è proposto ufficialmente quale candidato alla presidenza del Parlamento europeo per il dopo Schulz. La decisione è stata ratificata durante la riunione del gruppo dei socialisti e democratici. Presente lo stesso Schulz che ha appoggiato la candidatura di Pittella il quale ha spiegato di avere parlato tra gli altri con il premier Renzi, con Hollande e con altri leader socialisti. Queste battaglie ha affermato non si possono fare se la famiglia politica non concorda in pieno. Io considero che c'è bisogno di una svolta in Europa, che la politica di austerità, la politica di non governo dei flussi migratori, un'agenda sociale che ancora stenda ad affermarsi. Tutto questo è la migliore benzina per coloro i quali propongono una distruzione, cioè i movimenti euroscettici, xenofobi, sessisti, razzisti. Noi dobbiamo rappresentare l'alternativa a questo. Noi dobbiamo rappresentare la svolta possibile. Cambiare l'Europa per salvare l'Europa. E Pittella dovrà vedersela con il candidato del Partito Popolare europeo, che dovrebbe essere, con ogni probabilità, l'attuale capogruppo, il tedesco Manfred Weber. Tra gli outsider anche la liberale francese Sylvie Goulart. A Lucano farebbero certamente gola i voti del gruppo del Movimento 5 Stelle, ma lui commenta. Vedremo, discuteremo anche con loro, anche se loro appartengono ad un gruppo con il quale io non voglio avere nessun rapporto.